Sì, buonasera da Caminate. Dunque, che cosa è successo qui alle 17 di oggi pomeriggio? Praticamente un incidente fotocopio di quello che è accaduto sabato scorso a Marotta. Tutto è successo all'interno di un'abitazione privata, in una casa isolata che si trova poco distante da dove ci troviamo, qui a Caminate. Sì, intorno alle 5 di oggi pomeriggio all'interno di questa abitazione c'era un uomo di 72 anni con la moglie, la nipote e il fidanzato della nipote, fidanzato di 26 anni. Ad un certo punto, mentre stavano maneggiando con una pistola, al 72enne è partito un colpo che ha ferito il giovane alla gamba sinistra. La pistola che stava maneggiando pare sia una 765, una pistola dunque piccola. A un certo punto sono stati chiamati i soccorsi, il 118 è arrivato e quando hanno chiesto che cosa era successo l'anziano ha detto che il giovane era stato morso da un cane. Però è una versione che non è apparsa subito credibile ai sanitari del 118 che quindi hanno chiesto per la seconda volta che cosa era successo e subito dopo è venuta fuori la versione ufficiale, cioè che era partito un colpo di pistola che ha ferito al ginocchio il ragazzo. Di conseguenza il 118 ha chiamato i carabinieri, i carabinieri sono giunti sul posto e hanno chiesto informazioni sull'accaduto. Intanto i due sono stati trasportati all'ospedale San Salvatore di Pesaro, non sono gravi. Il perché? Il perché hanno detto e hanno dato questa versione? Perché volevano semplicemente salvare il loro porto d'armi. Sono tutti e due esperti di armi, in particolare il 72enne è un cacciatore e aveva timore di perdere l'autorizzazione per andare a caccia, cosa che probabilmente avverrà comunque nelle prossime ore. I carabinieri di Fano, comandati dal capitano Alfonso Falcucci, stanno indagando, però non c'è nulla di particolarmente strano, tutto sta tornando e quindi si tratta semplicemente di un incidente. Ripeto, un incidente praticamente fotocopia rispetto a quello che è successo sabato scorso a Marotta, dove un uomo di 64 anni, proprio mentre stava maneggiando una pistola, ha fatto partire un colpo che ha colpito al petto la moglie di 59 anni. La moglie che è stata poi operata al torretto di Ancone, adesso per fortuna si trova fuori pericolo. Da registrare soltanto un fatto, il perché di queste armi, il perché di questi incidenti, probabilmente perché la gente comincia ad avere paura, soprattutto quelli che erano nelle case, come in questo caso isolate, di campagna, la gente si sta attrezzando, chi ha pistole in casa le sta rispolverando per chi ha paura. E questo è il risultato, sono gli effetti collaterali. Ed è tutto qui da Caminate.